una somma determinata ad un terzo o a se stesso. L'assegno bancario è uno strumento di pagamento e questo lo rende diverso dalla cambiare tratta che è uno strumento di credito. I requisiti dell'assegno bancario sono la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare una somma di denaro determinata, l'indicazione del trattario, l'indicazione del luogo di pagamento e del luogo di emissione, la data di emissione e la firma del traente. I presupposti sono che il traente deve avere fondi disponibili presso la banca trattaria e l'assegno non deve essere accettato da parte della banca, come invece avviene nella cambiare tratta in cui per avere il pagamento da parte del trattario questo lo deve prima accettare. La scadenza è sempre a vista o 15 o 8 giorni e se mancano i fondi al momento dell'emissione o l'emissione non è stata autorizzata da parte della banca, queste comportano sanzioni amministrative sul traente. Per quanto riguarda la circolazione dell'assegno bancario, se l'assegno è all'ordine, questo circola con la girata e la consegna del titolo, mentre se l'assegno è al portatore, questo circola con la semplice consegna del titolo. Sono posti dei limiti alla circolazione per quanto riguarda l'assegno non all'ordine, che questo circola con le norme della cessione ordinaria, l'assegno non trasferibile, infatti l'assegno diventa non girabile, quindi non cedibile, l'assegno sbarrato, la banca può pagare solo a un banchiere, a un proprio cliente e l'assegno è da accreditare, nel senso che la banca non può pagare in contanti, ma con accredito sul conto di chi lo presenta. L'assegno circolare L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine e contiene la promessa di pagamento, viene messo da una banca per somme disponibili al momento dell'emissione. È simile al pagherò cambiario, ma è diversa in base alla funzione, poiché consente il pagamento senza il rischio del materiale spostamento della moneta e per quanto riguarda i presupposti e requisiti formali, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari viene data agli istituti bancari dopo effettuato un controllo della Banca d'Italia e l'istituto bancario deve istituire presso la Banca d'Italia una riserva e misura percentuale agli assegni emessi come garanzia dei pagamenti per gli assegni emessi. Mentre per quanto riguarda i requisiti formali vi deve essere la denominazione di assegno circolare sul titolo, la promessa incondizionata di pagare a vista una determinata somma di denaro, l'indicazione del prenditore, l'indicazione della data e del luogo di emissione e la sottoscrizione della banca emittente. Capitolo 23. Le procedure concorsuali in generale L'imprenditore come L'imprenditore come